Bentornati al Tg della disinfestazione e alla nostra rubrica come è fatto. Oggi parliamo di un infestante temibile e che forse sta allevando il sonno ad alcuni di voi, le cimici da letto. Abbiamo l'opportunità di avere delle cimici vive raccolte in un intervento eseguito qualche giorno fa, per cui voglio mostrarvele e iniziare a parlare proprio mentre voi le osservate. La cimice da letto, come potete notare dalle immagini, è un insetto rosso-nerastro appiattito dorso-ventralmente di pochi millimetri di dimensioni. La sua caratteristica principale è quella di essere ematofago, cioè si nutre di sangue, il che significa che, principalmente durante la notte, è attivo nel prelevare il sangue dall'ospite, quindi dall'essere umano, attraverso delle punture che sono spesso molto pruriginose. Una caratteristica tipica della puntura della cimice, che però non deve essere assolutamente un carattere diagnostico inequivocabile, è la cosiddetta puntura in fila o a triade, cioè questa caratteristica appunto di avere punture molto ravvicinate tra loro sul corpo. Non fatevi ingannare nemmeno dal nome, infatti i cimici da letto fa pensare che nidifichino solamente sulla struttura del letto o nei materassi, non è assolutamente così. Infatti questi esseri molto fastidiosi possono nidificare anche dietro i quadri, vicino o dietro il battiscopa, possono nidificare tranquillamente nelle prese elettriche, per cui azioni come buttare il materasso oppure spruzzare insetticida in casa o nella stanza infestata, tanto per, hanno effetti veramente poco significativi e in alcuni casi possono addirittura peggiorare la situazione. La cimici da letto depone delle uova in numero variabile a seconda delle condizioni climatiche, che sono di un colore bianco madreperla, dalle quali poi, dopo un certo periodo di tempo, fuoriescono le cimici giovani, quindi quelle che vengono scientificamente definite neanidi, che sono morfologicamente abbastanza simili agli adulti o comunque agli stadi successivi, come quelli che potete vedere proprio nelle immagini che stanno scorrendo. Una caratteristica classica e un carattere diagnostico veramente importante nelle cimici da letto sono questi puntini neri che voi vedete nel cartoncino bianco, che non sono altro che escrementi. Non mi resta altro che consigliarvi di affidarvi ad una ditta altamente specializzata per un trattamento di cimici da letto e, oltre al fatto che questa debba utilizzare assolutamente metodi di lotta fisici, quindi o il vapore saturo secco o l'azoto liquido, vi deve offrire una garanzia completa di risoluzione, perché un intervento di cimici da letto può essere gestito, in alcuni casi, non sempre in un unico intervento. Quindi è bene avere una garanzia di risoluzione al 100%, lo ribadisco. L'unica cosa che posso fare a questo punto è consigliarvi di scaricare la guida nell'apposita sezione del blog, se avete ulteriori curiosità. Potete inviarci una mail a infochiocciola agli specialisti della disinfestazione.com con le vostre domande, o se avete un problema di cimici da letto, contattateci al numero verde 800 92 6162 e vi risponderemo immediatamente per consigliarvi lo specialista della disinfestazione della vostra zona. E ricordatevi che siamo sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti. Alla prossima! Grazie!